Buongiorno, ben trovati, buon sabato mattina, siamo qui dal lunedì appunto al sabato alle 7 puntualmente in diretta per mostrarvi le notizie principali sui giornali, farvi una panoramica di quelle che sono le argomentazioni principe della giornata, naturalmente poi nei giornali all'interno ce ne sono tante altre, molte di più, ma noi vediamo così una infarinatura come come si dice. Noi guardiamo sempre insieme a voi anche il tempo, il tempo per le prossime 48 ore, ma anche il calendario. Allora iniziamo proprio dal calendario, vediamo che cosa ci dice oggi l'almanaco per sabato 21 dicembre è San Pietro Canisio, il sole sorgerà alle 7 e 38 e tramonterà alle 16 e 34. Andiamo sulla pagina del tempo, vediamo le previsioni per oggi che sono all'insegna di una discreta variabilità, c'è un po' tutto, ci sono le nuvole, c'è il sole, c'è la pioggia, non si sono fatti mancare niente come simbologia e quindi nuvoloso per nubi di tipo orografico con però maggiori addensamenti nelle zone interne, vedete infatti nell'interno sul crinale peninico non c'è la simbologia del sole e ci saranno parziali schiarite nelle ore centrali della giornata, quindi precipitazioni ci sono, sono date proprio nella prima metà della giornata, soprattutto però diffusi all'interno e probabilmente i fenomeni piovosi in esaurimento nel pomeriggio potrebbero interessare anche la costa, le temperature sono in aumento. Per domenica c'è uno spiraglio di sole anche sui rilievi però vedete sempre molta variabilità, nuvoloso, addensamenti nei rilievi appennini, ampie schiarite poi nelle ore centrali della giornata, su fascia collinare e anche costiere, quindi insomma si parte la mattina con un tempo non troppo edificante per poi andare migliorando nel corso della giornata. Le precipitazioni, le piogge sono date più che altro durante la nottata, quindi domani mattina probabilmente forse già saranno abbastanza in esaurimento, alle volte potrebbero avere localmente anche carattere di forte intensità, naturalmente il tutto in esaurimento nel primo pomeriggio. Le temperature minime stazionarie massime in diminuzione, comunque non sono, guardando la colonnina del termometro non è che sono bassissime le temperature, anche stamattina uscendo non è che c'è una temperatura da circolo polare artico, insomma. Previsioni, lunedì in inizio della settimana si presenta così, sereno, poco nevoloso, nessuna precipitazione e temperature massime stazionare. Questo è il tempo per questo fine settimana e inizio della settimana prossima e allora guardiamo subito le pagine dei giornali, io vi porto in quella del capoluogo di regione in apertura, dove la politica e anche poi tra l'altro nelle altre pagine, sempre per il resto del Carlino, la disfida che si giocherà a livello regionale già è partita, si può dire, intensificandosi anche le uscite sia delle fazioni a livello nazionale dei partiti, ma insomma la regione si spacca in due perché la partita è tutta tra centrodestra e centrosinistra, Ceriscioli resiste, Acquaroli però lo sfida verso appunto le regionali, il governatore PD non molla ma Fratelli d'Italia lancia il suo candidato per il centrodestra. La sindaca invece di Ancona, anche lei per la compagine renziana probabilmente sarà coinvolta, ma annuncia dopo la bufera giudiziaria che ha investito la sua amministrazione, annuncia la rivoluzione per Ancona. Andiamo invece nelle pagine di casa nostra, come si suol dire, però anche qui sono le zuppe pambagnato, vedete l'apertura del cortiliere adriatico è la scelta della Meloni, due punti Acquaroli, quindi il sindaco di Fratelli d'Italia, il governatore per la regione nel centrodestra, il candidato è Acquaroli, ma la Lega dice potevano condividerlo, potevano condividerlo perché sapete la Lega è come vedete anche dai sondaggi ampiamente avanti, si attesta a un 36.0%, le intenzioni di voto, le intention to treat naturalmente, però questo è e quindi la Lega dice ok condividiamo questo progetto. Arrigoni che è così sulla rampa di lancio, dice la palla adesso passa a Salvini, io ci sono, noi abbiamo tutti i numeri a posto per poter concorrere noi. Da Pesaro, anche qui fotonotizia partita a scacchi, elezioni regionali, Ceriscioli parla agli alleati, il centrodestra decide e qui vedete naturalmente il più conosciuto Ceriscioli al fianco, eccolo qua il candidato dei Fratelli d'Italia Acquaroli, eccolo qui, questo per chi non ne avesse mai avuto visione in foto o in incontri. E quindi la Meloni dice le marche sono nostre, spetta a noi decidere il candidato del centrodestra e quindi presenta Acquaroli però accolto con una certa freddezza da parte degli alleati. Arrigoni, appunto, della Lega, dice andava il tutto discusso sul tavolo nazionale, quindi non è proprio insomma una investitura in pieno, c'è all'orizzonte uno scontro. Ceriscioli invece tiene e appunto come dicevamo Italia Viva vuole la Mancineri, la sindaca di Ancona, i Renziani puntano su di lei avendo avuto anche un'investitura importante, quella di miglior sindaco in assoluto a livello mondiale, insomma c'è stato un suffragio sul suo nome proprio per quello che è riuscito a fare ad Ancona. Ma Ceriscioli appunto tiene PD a confronto con gli alleati per appunto presentarsi con i conti in ordine per le prossime elezioni. Ma il Natale è anche solidarietà, a Pesaro va in scena per i bambini terremotati, una donazione di centinaia di doni da parte di Ascom, di Confcommercio che raccoglie giochi e poi li portano ai bambini terremotati. Davide Ipaso, dice il segretario di Ascom, ecco che vedete qui insieme agli altri funzionari, emozione unica, insomma vedere i volti pieni e carichi di gioia di questi bambini al ricevimento di questi doni natalizi. Si parla però anche della galleria di A14 per Novilara, costruita sulla parola, inchiesta archiviata perché troppo lenta, tutto è prescritto, è stata spaccata una collina senza chiedere la via, la valutazione di impatto ambientale al Ministero e quindi insomma tutto archiviato e un semplice geologo regionale, dice il resto del Carlino, ha dato il nulla osta alla variante senza alcun controllo. Ortigiuli, andiamo nelle pagine del Corriere Adriatico, il regalo sotto l'albero, l'incarico per completare il bar, vandalismi, furti e degrado, le conseguenze per l'opera incompiuta dopo oltre dieci anni di abbandono. E qui vedete nella infografica come sempre la cronologia di tutta l'evoluzione di questa storia pesarese. Ancora nelle pagine del Corriere Adriatico, l'avete sentito anche ieri nel nostro telegiornale, la lettera a cuore aperto di Roberto Berloni, la famiglia dice la sua su come si stanno dipanando le vicende per l'azienda che porta il nome di famiglia e appunto Roberto Berloni dice la nostra famiglia ha dato tutto per questa azienda e non merita questo stato d'accusa. Lettera aperta alla città dell'ex amministratore delegato Roberto, noi speriamo ancora che si possa vedere la luce in fondo al tunnel per l'azienda che porta il nome di famiglia ma anche per le sorti delle 85 famiglie, 85 dipendenti appunto rimasti nella linea produttiva dell'azienda. Si parla di bilanci però il bilancio comunale appunto sì al bilancio, astenuti i 5 stelle, si parla del bilancio del comune di Peso, l'assessore delle noci ha presentato il documento previsionale, nell'arco di 10 anni è stato dimezzato dice il debito pro capite ma l'opposizione è solo sulle nostre spalle dice il centrodestra e queste appunto sono le dinamiche in assise. Scuole, si parla di edilizia, la regione boccia del piano e il comune dice noi andiamo avanti ugualmente, il casus belli e la sospensione della media Tonelli, Perugini dice non riuscivamo a fare prima e quindi insomma qui c'è in ballo come sempre anche la dinamica, le sorti non solo delle mura ma anche di studenti e di docenti che sono un po' come sempre tra l'incudine e il martello, lo abbiamo visto anche con le vicende insomma della nostra scuola, del nostro liceo, insomma ancora non si vede come si suol dire la luce in fondo al tunnel per quanto riguarda i ragazzi del Norfi, si prospettano periodi non sicuramente facili se non si trova una soluzione a breve. Siamo già a Natale, i tempi sono brevi. Era acquisiti tre fabbricati, nascono 15 case popolari, si parla di edilizia popolare a Vallefoglia, pronto il bando per l'assegnazione, per il mercatino si aspetta poi l'estate e quindi prospettive anche di eventi. A Fano nelle pagine del Corriere Adriatico si riparla di quanto avvenuto tra ieri e l'altro ieri nel Consiglio Comunale e Renzi dice, Antonietta Renzi, dice il regolamento è stato rispettato quindi in Consiglio Vulnus Democratico, le delibere passano senza dibattito critico, le minoranze prive di strategia si sono auto escluse. Si parla anche di bilancio perché naturalmente nella votazione di ieri è stato presentato il bilancio. Che cosa dice il bilancio? Andiamo nelle righe, qui l'articolo del Corriere Adriatico entra nelle pieghe del bilancio, ci saranno più entrate derivanti da multe e da parcheggi e con 400 parcheggi in più così non potrebbe essere, passaggi contributi saliti del 150%, il preventivo del 2020 del Comune approvato all'unanimità ai servizi educativi, incremento di 1 milione e 100 mila euro. Nell'articolo poi ci saranno anche tutte le altre cifre, vi divertirete ad andarle a leggere. Scogliere, si cercano risorse per completare le barriere. Ieri c'è stato un incontro in Comune con gli operatori di spiaggia e un impegno sostanziale di Minardi, il vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche, ha preso un impegno formale a cercare altri fondi per chiudere la partita scogliere. Dalla Valmetauro il riscatto della tossicodipendenza, esperienze acquisite dagli studenti, l'iniziativa per parlare di questa piaga, di questo flagello che affligge soprattutto le giovani generazioni, all'Istituto Donati un'occasione, parlando di questi argomenti, un'occasione di crescita, di dialogo anche con i carcerati che hanno vissuto sulla loro pelle questo momento così difficile della loro vita. Nella Val Cesano si continua a parlare del progetto di Fileni, l'insediamento verrà bloccato, serve tempo per redigere gli atti, il Comune di San Lorenzo in campo ribadisce il no, c'è un forte impatto ambientale e quindi bisogna vedere bene come stanno le cose. Dalla Val Cesano tir si capovolge nella rotatoria, sei ore di lavoro per rimuovere, l'incidente è avvenuto a Marotta, nella notte disagi per il traffico verso la 14, il blocco è stato tolto solo alle 5 della mattina. A Fano, chi è purtroppo passato per la nazionale, ieri andando da Fano a Pesaro, da Pesaro verso Fano, se ne sarà reso conto, code chilometriche, la causa era l'installazione, qui sono un po' nella foto un po' di lato, sono queste, sono proprio a metà del ponte dell'Arzilla, sono state collocate quattro telecamere di ultimissima generazione, oltre per la sorveglianza ambientale anche per i targa red, ovvero monitorare le auto in entrata e in uscita dalla città, il Comune mette il senso alternato per installare le telecamere all'Arzilla e purtroppo i disagi sono stati inevitabili e oltre alle scuse dell'assessore fatte ieri ai nostri microfoni, arrivano anche a mezzo stampa quelle del Comandante per questi disagi, ma così era, non si poteva fare diversamente. Fondazione in prima linea, Fondazione Cassa di Spani, il Presidente Gragnola ha annunciato anche la mostra su Maggini e l'impegno anche per ristrutturare e rendere fruibile il palazzo della cultura e quindi anche per loro momento di bilancio e di prospettiva, come sempre, arte, lavori e investimenti nel loro DNA. Anche nelle pagine del resto del Carlino si parla dell'incontro, vedete la foto nella sala della Concordia, ha avuto ieri tra amministratori e operatori, incontro al quale era presente oltre il Sindaco Seri, Minardi, Lucarelli e Fanesi insieme ai aderenti a dosi con fartigianato. Sostanzialmente c'è stato nulla di fatto rispetto a quello che già si sa, se non la certezza di fare un primo setto di scogliere davanti ai bagni Maurizio. Mentre per quanto riguarda Bagni Gabriele e Bagni Carlo, i progetti sono già pronti ma non ci sono gli stanziamenti e quindi l'impegno di Minardi per cercare fondi per chiudere la partita davanti appunto alla Sassonia, la certezza però sono quelli che sono stati varati proprio a lungo il litorale a sud del Metauro per difendere appunto dall'erosione la costa e anche la banchina ferroviaria. Ma si cercano fondi anche per Ponte Sasso, intenzioni sicuramente meritevoli di attenzioni queste, speriamo che la partita scogliere trovi presto la chiusura. Domani parlando di iniziative legate al Natale, la carica dei Babbi Natale è corsaioli naturalmente perché i Babbi Natale ci sono di diversi tipi, questi sono corsaioli come vedete armati di scarpete e di costume, verranno giù da barchi, dalla partenza appunto della Colle Marathon, eccoli qua veramente correranno 11 chilometri in segno di pace e fratellanza. Questa bella manifestazione è arrivata alla tredicesima edizione che conta insomma un numero considerevole di aderenti, vedete qui 500 partecipanti si butteranno giù per varie colline, insomma è sicuramente un colpo d'occhio almeno dal punto di vista diciamo così del colore è sicuramente bello e da vedere insomma e poi se ve la sentite partecipate anche insomma. A Urbino sanatoria per un abuso edilizio, si parla di conti comunali, un abuso edilizio commesso dallo stesso Comune, l'opposizione però blocca il Consiglio Comunale e il Sindaco Gambini rinvia a data il tutto da destinarsi. Invece nelle pagine del resto del Carlino di Urbino si parla di scuola, caos naturalmente per alcune decisioni e invece adesso ci cerca la quadra, il Comitato dei Sindaci difende sia Urbino che Pesaro per quanto riguarda il caso Itis e Tonelli. Andiamo a Fabriano dove vi abbiamo fatto vedere anche nei passati giorni i malumori per alcune strade che sono veramente i ferri corti per quanto riguarda i lavori nelle superstrade e nelle autostrade. All'alba un'ottantina di auto si sono messe in marcia per contestare i ritardi dei lavori lungo la Statale. Il Sindaco però è contrario, si scende in strada a Passo Duomo. Un altro nodo cruciale, nodo viario cruciale è a Falconara dove c'è un braccio senza fine tra vertenze e controvertenze per questo autovelox che ha fatto veramente sfracelli. Dopo le prime dieci multe annullate dal giudice di pace però il Comune va al contrattacco e incassa tre a suo favore. Non ci sono stati atti illegittimi dice il Comune di Fabriano. Chiudiamo con Senigallia, c'è la cronaca, finge un'aggressione razzista, è stato denunciato, 22enne alcune settimane fa aveva accusato un buttafuori di un locale ma la polizia ha smascherato la sua falsa versione. E poi chiudiamo con gli eventi legati al Natale. Lungo weekend di shopping e di feste si arriva fino al 24 dicembre con i bus in navetta che portano le persone dai parcheggi limitrofi al centro di Senigallia. Insomma una cosa molto buona. Vedete qui piazza Garibaldi con questa illuminazione sospesa veramente scenografica, molto molto bella. Benissimo. Questo è tutto. Grazie per essere stati in nostra compagnia in questo weekend pre-natalizio. Naturalmente approfittate del bel tempo per fare i vostri acquisti e fare le vostre uscite. Noi per quanto riguarda Occhio e Giornali ci rivediamo lunedì mattina puntualmente alle 7. Questa sera c'è il magazine 7 per occhio ma questo è il numero sempre a vostra disposizione per entrare in contatto con la nostra redazione. Grazie e buon fine settimana a tutti voi. Arrivederci alla prossima settimana.